Questa è la colonna sonora di un film che uscirà a breve on demand e che si intitola Radioactive. Un film diretto da Marjan Satrapi che sicuramente ricorderete per essere l'autrice di due meravigliosi libri a fumetti, poi anche film per Sepoli, Sepolo alle prugne. E anche questo film che è sulla vita di Marie Curie è tratto da un fumetto, nello specifico da una graphic novel di Lauren Redniss che si intitola Radioactive, appunto, Marie e Pierre Curie, A Tale of Love and Fall Out. Un libro che è uscito nel 2010 che tra l'altro ha vinto, no anzi è stato finalista nel 2011 al National Book Award che è un premio letterario importante negli Stati Uniti e che è un po' un mix di arte e reportage. La Satrapi prima ancora insomma che uscisse questo film aveva detto che non sarebbe stato soltanto un biopic, quindi una biografia della vita, un film insomma biografia della vita di Marie Curie che comunque già sarebbe stato un risultato molto bello vista l'eccezionalità del personaggio, ma che avrebbe raccontato anche la storia della radioattività, dalla sua identificazione, dall'approccio umanista dei Curie nella loro scoperta e poi agli effetti che poi hanno avuto questa scoperta sul mondo fino ad oggi. E in effetti così è. Il film è uscito nel 2019, diciamo è stato fatto nel 2019, doveva uscire a marzo del 2020, ma a causa pandemia la sua uscita è stata posticipata e dal 15 luglio la pellicola verrà distribuita on demand. Se mi è piaciuta, allora intanto vi dico la protagonista è Rosamund Pike, la regista è Marjan Satrapi, quindi un film tratto da un fumetto con una regista donna che a sua volta ha un diciamo un legame con il fumetto. E questo nel film si vede molto, innanzitutto per le atmosfere. Allora già potete intuire un po' dalla musica, dalla colonna sonora che è un film abbastanza scuro, perché chiaramente racconta anche l'ambiguità e gli alti e bassi di questa vita, la vita di Marie Curie, una vita da un certo punto di vista tragica, per il rapporto con il marito che poi è morto in circostanze tragiche, lei stessa è stata fondamentalmente lentamente uccisa dalla sua scoperta e all'inizio appunto sembrava che la scoperta sarebbe stata attribuita tutta al marito, a Pierre Curie, poi invece insomma lei vince il Nobel due volte, mi pare uno per la fisica e uno per la chimica e è una vita incredibile, appunto la vita di una donna che ha dovuto combattere come sempre con tanti stereotipi, che si è trovata in mano una scoperta gigantesca e che nel film appunto viene accostata nella sua vita a quelli che sono stati che saranno poi gli effetti della radioattività, quindi c'è un flash su Chernobyl, ci sono praticamente degli spaccati del futuro, cioè dei momenti in cui sembra quasi che la Curie cada in trance e che abbia la possibilità di guardare oltre e di vedere che cosa la sua scoperta ha portato nel bene e nel male, quindi insomma quello che di molto brutto è stato tratto da questa scoperta e quello che invece ha portato di buono. L'ho trovato un bel film, forse un po' lento in alcuni punti ma sicuramente le atmosfere sono bellissime, questa sensazione un po' cupa c'è anche nei colori che sono tutti sul nero, il verde, questo verde scuro, verde bottiglia, ecco sembra effettivamente una cosa venuta fuori da un fumetto, cioè si vede questa matrice fumettistica. Ve lo consiglio, se potete recuperarlo on demand quando uscirà il 15 luglio o più avanti, insomma senza fretta, secondo me è una bella storia e in generale è una bella storia quella di Marie Curie, una delle donne appunto più importanti del mondo, del mondo della scienza, ma in quanto donna di scienza, donna che è stata molto osteggiata proprio per il suo talento e forse anche a causa dell'invidia di alcuni uomini. Andiamo avanti con la musica, proprio si parla di amore, odio e amore, love, hate, love, questi sono gli Alice in Chains.